è arrivato da Milano, ci ha dato la possibilità di creare questa serata Marco di Monballe, eccolo qui ha creato allora, questa collaborazione bella con Monballe e anche un ben entrito gruppo della biblioteca nei comuni di Monballe vi ringraziamo perché è parte di una bella collaborazione c'è stato questo contatto, Marco aveva assistito ad una serata a Milano con Salvatore Borsellino e ci ha proposto di farlo qui abbiamo unito un po' le forze, abbiamo usato il nostro spazio e questa è la serata che siamo riusciti ad organizzare vi ringraziamo tanto per la vostra presenza così numerosa io le parole voglio dire poche perché ci sono altri che hanno tante cose da raccontare invito sul palco il sindaco, Riccardo del Torchio e Marco che è il creatore della serata quindi passo la parola prima al nostro sindaco che mi introduce anche grazie Silvia, poche parole non vi nascondo che vedere la sala d'use a stracolma di persone è sempre un'emozione l'emozione è ancora più alta quando le serate sono di questo tipo e quando le serate nascono come quella di stasera lo ricordava Silvia qualche mese fa una chiacchierata con un amico, Marco ci ha portato a pensare a quest'idea di poter organizzare un evento di questo calibro nel nostro comune e alla fine dopo un po' di lavoro siamo riusciti a organizzarlo ripeto, l'emozione è un po' alla base per tutte le iniziative con tutte le iniziative che qui a Besozzo cerchiamo di proporre molte persone ci chiedono come mai la nostra amministrazione si impegna a organizzare eventi che siano culturali, di sensibilizzazione alla base c'è questa emozione che vogliamo trasmettere alle persone che poi riescono a uscire di casa e riempire la sala come questa sera e siamo convinti di una cosa che queste emozioni e quindi serate come queste servono per alimentare la mente un po' meno la pancia e un po' di più la mente e personalmente ma penso che anche l'amministrazione che rappresento condivida questo pensiero in questo periodo abbiamo necessità di alimentare la nostra mente con pensieri che non vadano necessariamente a parlare alla pancia ma a parlare appunto alla testa e infine un motivo per cui uno dei motivi per cui siamo convinti che serate come queste possano dare un apporto positivo alla vita di ognuno di noi è che attraverso il ricordo attraverso le esperienze di vita è possibile alzare lo sguardo e non solo guardare il futuro ma gettare le basi per poterlo progettare e pensarlo in modo diverso e positivo ringrazio tutte le persone che stasera appunto sono uscite di casa a riempire questa sala e sono contento perché alla fine uno dei oltre a quei motivi già elencati uno dei motivi per cui noi ci spendiamo per organizzare questi eventi è semplicemente perché vogliamo che le persone siano felici e contente so che è un pensiero un po' semplice però alla fine quando ognuno di voi si alzerà da questa sede uscirà soddisfatto da questa sala allora la nostra missione sicuramente sarà raggiunta grazie una parola a Marco che è quello che ci ha stimolato a organizzare questa sera sì due parole giusto per ringraziare Stella che purtroppo stasera non è qua che è la figlia di Salvatore che è la mia amica che ha permesso permette stasera a Salvatore di essere qui io ho assistito grazie al suo invito a quello di Leana che è un'altra cara amica ad un suo incontro ormai è un anno e mezzo e mezzo fa e rimasi molto colpito da quel pomeriggio ricordo una delle domande poi rivolte alla fine a Salvatore che farà un intervento che non è solo di memoria ma è proprio toccante a meno per me è stato così ricordo una domanda di Ferdinando e la tra l'altro ricordo ancora che chiese a Salvatore cosa possiamo fare noi nella vita di tutti i giorni per quello di cui lui ha parlato e non anticipo nulla e io siccome mi sono sentito abbastanza piccolo quel giorno la prima cosa che mi è imbalzata alla mente è stata quella di far ascoltare le sue parole a più persone possibili e soprattutto a persone che vivevano magari nel mio quotidiano che sapevo non avrebbero avuto la possibilità di farlo e vedere questa sala piena poi 224 persone forse sono poche ma per noi questa sera sono tante invitiamo sul palco l'associazione di Milano dedicata a Peppino Impastato e Adriana Castelli questo ci ricorda una cosa noi l'anno scorso a luglio abbiamo avuto un incontro con Giovanni Impastato fratello di Peppino Impastato e proprio in quell'occasione un altro ragazzo che aveva assistito una sua serata a Milano aveva fatto una domanda al fratello di Peppino Impastato quindi è un filo rosso di collegare anche questa serata quindi ringraziamo anche l'associazione di cui troverete all'uscita nel foyer un banchetto con il materiale l'associazione di Milano prego sì salve sono Pino siamo del gruppo di Milano in agenda nostra qualche anno fa abbiamo risposto alla domanda che cosa possiamo fare noi dopo aver ascoltato Salvatore ce la siamo posta e abbiamo detto dobbiamo metterci la faccia dobbiamo parlare e da diverso tempo parliamo se spesso accompagniamo Salvatore ma abbiamo anche imparato a camminare con le nostre gambe e a entrare nelle scuole per preparare i ragazzi per raccontare delle cose abbastanza difficili ma lo facciamo attraverso uno strumento che è quasi primordiale il fumetto e con i fumetti i ragazzi capiscono che cosa è successo nel nostro paese è un impegno che ormai va avanti da circa 25 anni abbiamo appena lanciato il progetto per noi il primo importantissimo ed è un concorso nazionale rivolto a tutte le scuole d'Italia di ogni ordine e grado che partengono a materno fino all'università che chiede alle scuole di mobilitare i propri insegnanti gli studenti nel realizzare un frutto che dica no alla mafia Alla fine dell'intervento se ci sarà qualche richiesta qualche domanda se certo certo anzi non mi fa piacere se vi fate delle domande anche perché io non so esattamente quanto conoscete queste cose che hanno colpito il nostro paese non soltanto la strage ma anche quello che è venuto dopo quei processi che hanno avuto depistaggi quelle scellerate trattative che ci sono state tra pezzi deviati dello Stato e la mafia e quindi dalle domande posso capire diciamo quanto conoscete queste cose quindi vi posso dare la risposta opportuna io vi farò un racconto un po' che non è un qualche cosa che dati o altri o nomi o che cosa è un racconto che è praticamente la mia esperienza di fratello di un magistrato ucciso io sono fratello di Paolo Borsellino sono il fratello minore di Paolo ma essere fratelli di Paolo Borsellino non vuol dire nulla nulla significa soltanto essere nati dallo stesso padre essere nati dalla stessa madre cioè essere anagraficamente fratello di qualcuno ma essere fratelli veramente fratelli vuol dire un'altra cosa vuol dire aver avuto gli stessi sogni aver combattuto le stesse battaglie e se c'è un fratello di di Paolo non si chiama Solvatore si chiama Giovanni si chiama Giovanni Falcone perché Paolo e Giovanni hanno veramente condiviso tutto avevano un anno di differenza Giovanni era un anno più grande di Paolo ed è stato sempre un passo davanti a lui nel lavorarsi in giurisprudenza nel diventare magistrato è stato un passo davanti a lui anche nell'essere ucciso perché è stato ucciso nella strage di Capaci 57 giorni prima di Paolo e quando uccidono Giovanni Falcone Paolo sa che adesso tocca a lui uccidere Giovanni senza uccidere Paolo non sarebbe servito a niente perché Paolo fino all'ultimo giorno della sua vita come ha fatto avrebbe cercato di arrivare agli assassini di suo fratello e al motivo per cui era stato ucciso Giovanni Falcone ripeto essere fratelli vuol dire soltanto essere avere gli stessi genitori però è importante aver avuto la stessa mamma perché nostra madre era una grande una grandissima donna e tanto di quello che è stato Paolo deriva da nostra madre nostra madre ci ha insegnato tutto ci ha insegnato l'amore ci ha insegnato il rispetto ci ha insegnato il senso dello Stato ci ha insegnato a leggere non a leggere la lettera dell'alfabeto ma a leggere c'è l'amore per la lettura io e Paolo avevamo letto da ragazzi a 16 17 anni avevamo letto tutto quello che si poteva leggere la nostra madre ci continuava a consigliare dei libri da leggere e noi le leggevamo le leggevamo avidamente eravamo quattro quattro fratelli Adele la più grande quattro anni più di Paolo poi c'era Paolo poi io e poi Rita la più piccola sono rimasto solo io i miei fratelli sono tutti morti di tumore due Adele e Rita di un vero tumore di un tumore ai polmoni nonostante Rita non avesse mai fumato una sigaretta non c'era niente a Paolo che era sempre avvolto da una nuvola di fumo Paolo è morto dal peggiore dei tumori quel tumore che si chiama mafia criminalità organizzata rapporti tra mafia e stato deviato perché la mafia da sola potrebbe essere sconfitta in breve tempo la mafia con l'armata il problema non è la mafia quella mafia il problema è tutto quello che gli sta attorno chi con la mafia collude chi con la mafia fa affari chi alla mafia chiede i voti e poi li ripaga con dei favori e tutta la zona grigia che sta attorno alla mafia quello è il vero pericolo della mafia quello è il vero cancro il vero tumore e io che i tumori li ho dovuto studiare perché ripeto Rita è morta di tumore Adele la stessa anche mia mamma purtroppo ormai si muore sempre per quella allora io ho dovuto studiare sono ingegnere quindi la scienza mi ha sempre appassionato e ho studiato che il tumore ha una caratteristica per quello non esiste fino a oggi una cura vera per questi tumori perché il tumore ha una caratteristica che le sue cellule si mascherano rispetto al sistema immunitario il sistema immunitario non le riconosce e di conseguenza non le può aggredire infatti le ultime cure che stanno sperimentali sono quelle proprio di cercare di rompere questo mascheramento in maniera che il sistema immunitario possa riconoscere il tumore e aggredirlo e purtroppo la mafia soprattutto qui al nord ha esattamente questa caratteristica che si maschera è difficile da riconoscere quante volte io in incontri come questo mi hanno detto ma lei perché ci parla di queste cose la mafia qui non c'è tante volte ho sentito questo ho sentito queste parole la mafia c'è c'è qui la mafia c'è qui dove pensate che possa essere la mafia in Sicilia la mafia la criminalità organizzata ha accumulato ricchezze immense e queste ricchezze devono essere capitali immensi e queste capitali devono essere riciclati e dove volete che vengono riciclati al sud dove non c'è nulla non ci sono industrie non c'è niente è qui che la mafia è venuta a impiegare queste capitali e non è riconoscibile perché la mafia ha cambiato aspetto non è più quella che spara non è più quelli morti ammazzati per strada è una mafia diversa e noi siamo il sistema immunitario e dobbiamo essere in grado di riconoscerlo per poterlo combattere per poterlo aggredire altrimenti altrimenti abbiamo perso altrimenti la criminalità organizzata colonizzerà tutto il nostro paese vedete io abito qui al nord da 50 anni e abito qui perché a 27 anni ho deciso di andare via da Palermo andare via da tutto quello che non mi piaceva io la mafia la vedevo la mafia la respiravo la mafia erano i morti ammazzati per strada ed erano a decine a centinaia ogni giorno c'era un morto ammazzato per strada a Palermo quando io avevo 20 anni 18 anni ogni giorno le vie a Palermo non le chiamiamo con con il nome che gli dà la toponomastica via Roma via Torino forse Vittorio no da noi le strade sono la strada dove hanno ammazzato il giudice Terranova la strada dove hanno ammazzato il giudice Chignici la strada dove hanno ammazzato il giornalista il sindacalista queste sono le strade di Palermo adesso c'è anche l'autostrada dove hanno ammazzato Giovanni Falcone nella strada via D'Amelio dove hanno ammazzato Paolo Borsellino e tutto questo non mi piaceva ho scelto di andare via venire qui a noi venire a cercare un altro paese Paolo no? Paolo avete scritto qui su questo locandino il pensiero più bello di Paolo assorto non quelli che si dicono quei pensieri un po' li dicono che li attribuiscono a Giovanni un po' Paolo quello che ha paura moro ogni giorno che non ha paura moro una sola volta quella è un pensiero bello è un pensiero vero parla del coraggio del coraggio che è necessario per affrontare la paura la paura con cui questi magistrati Paolo Giovanni dovrebbero convivere ma il coraggio da solo non basta non basta se se tu sai che ti uccideranno se hanno ucciso tuo fratello e tu sai che adesso tocca a te il coraggio da solo non basta ci vuole qualcosa di diverso e c'è scritto in quel pensiero ascoltato cosa dice Paolo dice Paolo dice Palermo non mi piaceva per questo ho imparato ad amarlo perché il vero amore consiste nell'amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare di che cosa parla Paolo? di coraggio di legge di processi di indagini no Paolo parla di una cosa semplicissima una cosa che si chiama amore quell'amore che nostra madre ci ha insegnato quello che ha determinato tutta la vita di Paolo senza quell'amore Paolo non sarebbe riuscito non sarebbe sopravvissuto a quei terribili 57 giorni dopo la morte di Giovanni in cui lui aspettava quella morte che sapeva sarebbe arrivata ma la cosa più terribile per Paolo deve essere stare a un altro perché Paolo aveva un senso dello stato fortissimo che è stato che erano pezzi deviati di quello stesso stato a cui lui aveva prestato giuramento che volevano eliminarlo perché avevano intavolato con la mafia una scellerata trattativa perché vedete mio fratello è come un soldato un soldato che è andato in guerra a combattere un nemico non ci dovrebbero essere le guerre ma purtroppo ci sono nella realtà ci sono in tutto il mondo non esistono le missioni di pace come le chiamano esistono le guerre nella guerra si va per combattere si va per uccidere perché o sei tu a uccidere o sei tu che viene ucciso questa è la guerra ed è quasi normale che se un soldato va in guerra possa perdere in guerra la vita però vedete se mio fratello fosse un soldato che è andato in guerra a combattere un nemico e se fosse stato il nemico a ucciderlo io oggi non sarei qui a parlare sono passati 27 anni mi sarei fatto una ragione Paolo è andato a combattere un nemico e il nemico l'ha ucciso mi sarei fatto una ragione non sarei qui a parlare ma Paolo è un soldato che è andato in guerra a combattere un nemico ma il fuoco che l'ha ucciso non è venuto da quel nemico che l'ha andato a combattere il fuoco che l'ha ucciso gli è arrivato dalle spalle da quelli che avrebbero dovuto combattere insieme a lui e questo non è normale questo per una cosa come questa non si può trovare pace possono passare non vent'anni ne possono passare trenta quaranta cinquanta ma quelle vite sperite che si sono aperte continuano a sanguinare non si chiuderanno non si chiuderanno almeno fino a quando non ci sarà verità e giustizia e purtroppo a 27 anni di distanza ancora verità e giustizia non c'è perché ci sono stati tutta una serie di processi su Via D'Amelio Borsellino 1 Borsellino 2 Borsellino Terre il Borsellino Quater quasi 28 anni sono passati e ancora non c'è giustizia perché ci sono stati dei depistaggi nei processi è stato costruito un falso pentito un falso pentito che si hanno costretto con torture fisiche e psicologiche Vincenzo Scalantino si chiamava adatto a accusarsi di avere messa in Via D'Amelio quella macchina che quando Paolo suonò il campanello di Via D'Amelio per chiamare la nostra madre che doveva portarla dal dottore quel giorno esplose uccise lui e gli altri cinque soldati che erano insieme a lui un falso pentito che per ben due processi il borsellino 1 e il borsellino 2 le sue false testimonianze che era evidente a tutti che diceva il falso anche i mafiosi i capi mafio che si è a confronto con lui dicevano ma questo è un valore non avremmo mai potuto affidare a una persona come questo un incarico di quel tipo eppure per ben due processi quelle false testimonianze sono state avallate da magistrati che a mio avviso dovrebbero essere processati anche loro tanto era evidente che erano era un balordo non poteva essere lui l'organizzatore di una strage come quella 27 anni ci sono pulizzi per arrivare nel quarto processo il borsellino 4 nel quale finalmente c'è un barlume di verità un barlume di verità una parte di verità perché nel borsellino 4 di cui io sono sicuro voi non conoscete niente di quelle sentenze è un processo che ha rappresentato una svolta una svolta importantissima eppure è stato coperto alla televisione con in continuazione il processo sui conigi di erba su chiamacambirase quei processi ce li fanno vedere tutti un processo che riguarda la storia del nostro paese no quello viene occultato quello quel processo è un altro processo a Palermo un processo nel quale nel quale si parla di una trattativa una scellerata trattativa tra pezzi deviati dello Stato e la mafia con la quale pezzi dello Stato hanno contrattato con la mafia con l'antistato hanno contrattato la fine delle ostilità questa è la verità hanno contrattato la fine dell'ostilità e per poter portare avanti questa trattativa hanno dovuto eliminare Paolo Borsellino perché Paolo Borsellino questa trattativa l'aveva scoperta e con lui in vita quella trattativa non sarebbe mai potuto andare avanti Paolo l'avrebbe denunciato all'opinione pubblica l'avrebbe perseguita come reato e allora dovevano eliminarlo dovevano togliergli in mezzo questo ostacolo un magistrato in cui senso dello Stato non gli avrebbe mai permesso che lo Stato potesse trattare con l'antistato che lo Stato potesse trattare con gli assassini di suo fratello di Giovanni Falcone perché c'è stato il capitolo perché non si poteva arrivare alla verità perché voi pensate vedete oggi voi sentite parlare di trattativa la gente sente parlare di trattativa sembra una cosa quasi normale che lo Stato pezzi dello Stato possono trattare con la mafia con i criminali sembra quasi una cosa normale oggi ma pensate che cosa sarebbe successo nel nostro paese se 27 anni fa quando la gente era scossa dall'assassino di Giovanni Falcone dalla strage di Capaci pensate che cosa sarebbe successo se fosse venuto fuori che lo Stato pezzi dello Stato stavano trattando con gli assassini e non è che questo sia servito a fermare in qualche maniera le stragi da un lato c'era lo Stato uno Stato del diritto che può concedere dei benefici può concedere qualcosa ma sempre che qualcosa che sia all'interno della legge ma dall'altra parte ci sono dei criminali ci sono dei criminali che non vadano non guardano in faccia a nessuno e infatti non è che la trattativa abbia fermato le stragi perché anzi per alzare il prezzo della trattativa dopo la strage di Via D'Amelio ci furono la strage di Via dei Giorgofili a Firenze ci furono la strage di Via Palestro a Milano ci furono gli attentati al alle basiliche vaticane perché qualcuno qualcuno non erano certi mafiosi perché Rina pensate che sapesse che cos'era l'Accademia dei Giorgofili pensate che sapesse dove era il museo dell'arte moderna a Milano pensate che che avesse cognizione di tutto questo no ci fu qualcuno che gli consigliò che se si uccide un giudice se si uccide un magistrato poi ci può essere un altro magistrato che viene e prende il suo posto ma se si distrugge un bene artistico quello non quello non si può più ricostruire e non era certo nella mente dei mafiosi che poi doveva essere una cosa del genere erano quegli elementi raffinatissimi di cui parlava Giovanni Falcone che poteva dare consigli di questo tipo e ci doveva essere un'altra strage un'altra strage che non avete mai sentito parlare la strage del dello stadio olimpico a Roma la conoscete la sapete ne avete sentito parlare no? perché non c'è stata perché le macchine furono messe davanti allo stadio olimpico che avrebbero dovuto uccidere questa volta non uno non cinque non tre poliziotto carabinieri avrebbero dovuto uccidere centinaia di poliziotti che attorno allo stadio olimpico assicuravano il servizio d'ordine e quelle macchine cariche di esplosivo furono messe una prima volta e non esplosero si disse che non funzionò il timer una seconda volta e anche una seconda volta il timer non funzionò almeno così dicono ma io non conosco forse i timer messi dai mafiosi forse possono non funzionare ma i timer delle strage non li hanno messi mai i mafiosi né a piazza della loggia né alla banca dell'agricoltura per i timer ci vogliono delle conoscenze ben più profonde ben conoscenze tecniche ben più profonde di quelle che possono avere i mafiosi i mafiosi sanno sparare sanno uccidere ma i timer arrivano sempre da qualche altra parte andate a studiare tutti i processi che ci sono stati e sempre il timer arriva lo facevano arrivare dal terrorismo nero da quelli sì che i timer li sapevano usare allo strage olimpico del teatro olimpico non c'è stato non c'è stata perché intanto la trattativa si era conclusa intanto quel papello che era stato presentato da Totosina era stato accettato non più da Totosina ma da quello che poi aveva presentato Provenzano quando Rina venne giudicato troppo sanguinario per poter trattare con lui allora quelli che trattavano con la mafia decisero di fare spazio a Provenzano Provenzano che si vendette Rina pensate che sia stato il capitano ultimo a catturare a catturare Rina con delle indagini fu Provenzano che gli dè la mappa di dove si trovava Rina fu lui che era più malleabile a continuare a trattare e a concludere quella scelerata trattativa e allora non c'era più bisogno di altri stragi da allora stragi si sono fermate non ci sono più non ce ne sono più perché intanto la trattativa era stata conclusa anche se anche se quella trattativa aveva dovuto significare di sacrificare la vita di un servitore dello Stato come Paolo Borsellini io ero a casa mia quel giorno a Milano stavo era domenica ma da quando vivo al nord ho preso il vizio di lavorare anche domenica stavo lavorando al computer uno dei primi computer sono 30 anni fa ancora di computer quasi non ce n'era in Italia io lavoravo in una ditta di informatica e stavo lavorando un computer che avevo a casa mi chiama mia moglie mi dice Corri che stanno dicendo alla televisione che c'è stato un attentato a Palermo io non ho avuto bisogno di correre da 57 giorni tutti sapevamo quello che era successo io incontro tante persone tante persone incontro e tutti ci tengono a dire che si ricordano perfettamente cosa facevano dove erano quando hanno sentito quella notizia chi era davanti alla televisione chi l'ha sentito dal giornale ma tutti è come se il tempo si fosse fermato come se si fosse cristallizzato come l'orologio della stazione di Bologna che si fermò con le lancette sull'ora in cui era venuta quella strage è come se il tempo si fosse fermato per tutti io lo ricordo come in sogno che cosa fece corse alla stazione dei Carabinieri per cercare di sapere qualcosa di più perché ancora la televisione non dicevano dicevano c'è stato un attentato a Palermo è stato colpito dagli agenti di scorta non dicevano non dicevano nulla sul nome del magistrato ma non c'era bisogno di dirlo io lo sapevo tutti lo sapevamo lo sapeva anche Paolo che sarebbe arrivato quella morte che dopo la morte di Giovanni lui era come se la vedesse io ricordo gli occhi di Paolo lo vede l'ultima volta a Capodanno del 92 lui era venuto in vacanza qui sulle montagne del Trentino e io che da quando era andato via da Palermo non avevo avuto più l'occasione di passare la fine dell'anno il Natale con lui ci andai fu l'ultima volta che vedi Paolo ed era il Paolo Paolo di sempre il Paolo che amava scherzare amava ridere aveva quasi un ghigno era il suo sorriso inarcava il naso ed era quella la sua risata ed era il mio fratello di sempre il primo gennaio del 92 non l'ho visto poi più di persona perché doveva andare via proprio a Capodanno perché c'era stata l'ennesima strage in Sicilia la strage di Palma di Montecchiaro e Paolo dovevamo ancora passare insieme una settimana e aveva dovuto andare via quando poi avrei visto Paolo dopo l'assassino di Giovanni dopo l'assassino di suo fratello nelle foto nei filmati non era più quel fratello che io conoscevo gli erano quasi cambiati di colore gli occhi sembrava che quando guardava qualcuno non guardava quella persona ma guardava la morte che da qualche parte gli stava alle sue spalle perché sapeva che sarebbe arrivato così come è arrivato presi l'aereo ma quando salì sull'aereo ancora non avevano dato la notizia certo che fosse Paolo Portellino fosse morto allora io feci tutto il volo quasi in animazione sospesa e durante il volo parlavo con mio fratello e gli dicevo pensavo che ce l'avesse fatta che fosse rimasto soltanto ferito non avevano detto nulla alla televisione nelle prime ore quando scese dall'aereo mi raggiunse una telefonata di mia madre dall'ospedale dove l'avevano portata che mi disse tuo fratello è morto e io allora fuori certo che che Paolo non c'era più la nostra madre era una donna grandissima capace di resistere anche a quello non c'è niente di di peggiore per una mamma vedere morire il figlio prima di se stessa non è nell'ordine delle cose i figli devono morire dopo le mamme la nostra madre era una donna fortissima la prima cosa che ci chiese qualche giorno dopo quando uscì dall'ospedale fu di portarla dalle mamme di quei cinque ragazzi che erano a morte insieme a Paolo e quando gliela portavano gli si inginocchiava davanti gli prendeva la mano e gliela baciava diceva perché diceva voi avete sacrificato la vita di vostro figlio per il mio figlio questo diceva quelle mamme quelle mamme che adesso una dopo l'altra se ne stanno andando senza avere né verità né giustizia una di quelle mamme ha fatto scrivere sulla sua tomba qui già c'è una mamma che anche dopo morta continuerà a cercare la verità e continuerà a cercare giustizia e poi chiamò me chiamò mia sorella Rita i figli che le restavano e ci disse che da quel momento noi saremmo dovuti andare dappertutto comunque ci avessero chiamati per parlare del sogno di Paolo ci disse lei così lo chiamava ci disse fino a che qualcuno parlerà di vostro fratello vostro fratello non sarà morto voi dovete continuare a farlo vivere io non avevo mai tenuto un microfono in mano io sono un ingegnere al massimo nelle riunioni della mia ditta parlato a tre persone insieme improvvisamente mi trovai a dover parlare a decine a centinaia di persone e a cercare di controllare le emozioni che mi mi squassavano dentro però l'ho fatto l'ho fatto sono riuscito a farlo io non so se è quello che faccio ormai da tanti anni servo veramente a non fare morire il sogno di Paolo io credo che il sogno di Paolo fosse così grande perché era un sogno d'amore nient'altro cambiare il nostro paese liberarlo da questo tumore da questo cancro Palermo non mi piaceva per questo ho imparato ad amarlo e quando parlava di Palermo parlava di tutto il suo paese parlava dell'Italia per l'Italia che Paolo combatteva per il suo paese io credo che il sogno di Paolo fosse così grande che quel poco che possa fare io non sia determinante che il sogno di Paolo sia in grado di vivere da solo e lo vedo nei tanti giovani che incontrano nelle scuole e che io vado nelle scuole da questi ragazzi a prendere coraggio a prendere speranza da loro ma nelle scuole se parlo per tre ore una sala piena di ragazzi non si sente se vola una mosca non si sente volare il silenzio l'attenzione e tanti di loro mi dicono io voglio continuare quello che ha fatto Paolo io voglio iscrivermi in giurisprudenza voglio fare il magistrato e qualcuno sono 27 anni che è il giro l'Italia qualcuno c'è anche c'è anche riuscito qualcuno è diventato magistrato e una ragazza in particolare me la ricordo eravamo ieri si è rita affacciata dal balcone in via D'Amelio e vediamo una ragazza che ci saluta dalla strada nel 94 era due anni dopo la morte di Paolo noi la salutiamo dal balcone poi rientriamo poi ci affacciamo e questa ragazzina lì sotto che continuava a salutare allora scendiamo giù lei chiediamo chi fosse dove venisse ci disse che si chiamava Cristina aveva 14 anni e veniva da da Aviano aveva convinto i suoi genitori a metterla sull'aere a venire a Palermo perché voleva venire lì dove avevano ucciso Paolo a dire che lei sarebbe diventata magistrato e avrebbe continuato lì dove Paolo era stato fermato era una ragazza incredibile Cristina Cristina Lucchini si chiamava poi si è iscritta all'università è andata addirittura dalla normale di Pisa una delle università più difficili del nostro paese si è laureata addirittura aveva avuto un incarico per insegnare in quell'università e noi credevamo che avesse rinunziato al suo sogno invece qualche anno dopo ci telefona ci dice che ha fatto il concorso in magistratura è passata e andrà a fare magistrato a Caltanissetta lì dove ci sono i processi per Paolo e altri ce ne sono altri altri che nel nome di Paolo hanno deciso di continuare la sua lotta io non so quello che faccio serva ripeto a far dire il sogno di Paolo il sogno di Paolo è così grande che non serve quello che faccio io io da questi giovani oggi che vado a incontrare vado io a prendere speranza mi ringraziano quando li incontro dice grazie per essere venuto io gli dico ma grazie grazie io ma non capite io vengo a prendere qualcosa da voi da voi vengo a prendere la speranza la speranza che quando io non avrò più forza per parlare non avrò più forza ci sarà qualcuno che continuerà a farlo continuerà a fare vivere il sogno di mio fratello questo dico a quei ragazzi 27 anni sono passati ma non ho sempre saputo mantenere il mio giramento il mio fratello l'ho fatto per 5 anni dal 92 al 97 andavo in tutte le scuole a parlare ai ragazzi e ai ragazzi parlavo di speranza di speranza quella speranza che avevo che la morte di mio fratello fosse bastata a cambiare le cose perché vedete dopo la morte di Paolo dopo la strage in cui perciò la vita lui e i suoi 5 ragazzi stavano cambiando tante cose c'era la reazione della gente la reazione della gente l'indifferenza che cadeva la gente di solito voltava la testa dall'altro lato invece la gente si impegnava i balconi di Palermo si riempivano di lenzuola che ho scritto contro la mafia non l'avevo mai vista a Palermo succedere un lenzuola al balcone che ho scritto abbatto la mafia la mafia è una montagna di merda così c'era scritto in quella lenzuola mettere un lenzuolo a Palermo con una scritta contro la mafia una città in cui ha sempre regnato l'indifferenza una città in cui la gente sembrava quasi rassegnata mettere un lenzuolo con una scritta del genere è una dichiarazione di guerra significa io che mi affaccio da questo balcone con i miei figli che escono da questo portone per andare a scuola con il mio negozio lì all'angolo della strada dove ho sempre pagato il pizzo io mi ribello a tutto questo era una cosa che non avevo mai visto era una cosa che mi aveva fatto nascere dentro di me la speranza che l'amore di mio fratello fosse bastato a cambiare le cose io arrivai a dire in quegli anni che se Dio aveva voluto che mio fratello morisse perché il nostro disgraziato paese potesse cambiare io ringraziavo Dio di averlo fatto morire e non è una bestemmia perché sapevano che Paolo dovunque si trovasse se esiste un'altra vita sarebbe stato felice di vedere che anche se indaggia la sua morte il suo sogno si stava avverando le cose si stessero cambiando e anche lo Stato sembrava reagire la partesana dello Stato sembrava reagire i mafiosi vennero presi dalle celle dell'Occerdone dove avevano festeggiato con Aragonsa e Champagne la strage di Capaci si apprestavano avevano già fatto arrivare le casse di Champagne per festeggiare la strage di Dio D'Amelio questo succedeva in quelle carceri ma vennero presi messi su aeri militari e portati a Pianofa all'Asinara dove si interrompevano per sempre i rapporti che anche dall'interno delle carceri riuscivano ad avere con i loro accoliti all'esterno lo Stato sembrava reagire la parte sana dello Stato sembrava reagire per cinque anni ho mantenuto la promessa fatta a sua madre poi nel 97 mia madre muore per raggiungere quel figlio insieme al quale io credo se non sarebbe voluto andare quando senti suonare il campanello sapeva che era Paolo che doveva portarla dal medico e poi senti quell'esplosione che lei sapeva che la portava via il figlio e quando morì mia madre io senti come se qualcosa mi si fronpesse dentro ma non era soltanto quello non era soltanto perché non c'era più mia mamma a cui avevo fatto quel giuramento di fare vivere il sogno di Paolo no non era quello il fatto è che io a poco a poco avevo perso la speranza che le cose stessero cambiando con la speranza che avevo avuto fino ad allora l'avevo perso perché l'indifferenza ancora una volta stava cominciando a rimontare l'indifferenza che era stata spezzata da quella strage perché lo Stato l'ho capito tanto tutto dopo perché lo Stato aveva cominciato a pagare le cambiali che erano state firmate per concludere quella trattativa in un solo colpo furono messi fuori dal 41 bis del carcere duro che aveva voluto aveva voluto Paolo aveva voluto Giovanni che era stato votato prima con un decreto come non era bastata la morte di Giovanni Falcone ha stato approvare fu approvato soltanto dopo la strage di Adameda dovete morire un altro giudice prima di approvare quel decreto del carcere di massima sicurezza per i mafiosi ma in un solo colpo qualche anno dopo non c'erano 300 mafiosi che erano al 41 bis con un decreto firmato dal ministro Conto allora vennero messi fuori io allora ancora non capivo non capivo perché io ancora pensavo che mio fratello fosse stato ucciso dalla mafia che mio fratello avesse perso la vita combattendo col nemico che era andato a combattere questo credevo fino allora però poi cominciavo a vedere dei segnali e persi la speranza persi la speranza e allora smissi di parlare smissi di parlare ripeto non perché non c'era più mia mamma a cui avevo fatto giuramento smissi di parlare perché ritendi di non avere più diritto di parlare che diritto avevo io di parlare ai giovani ai ragazzi nel momento in cui non avevo più la speranza dentro di me se mio fratello fino all'ultimo giorno della sua vita quella speranza l'aveva mantenuta non l'aveva mai persa Paolo nella sua ultima lettera la scrive alle 19 alle 7 del mattino di quel 19 luglio di quel 19 luglio in cui lui quasi sa che perderà la vita da segnali che gli erano arrivate da una telefonata che gli era arrivata proprio quella mattina alla fine del quale Paolo scaglia il telefono a terra e dice così racconta sua moglie la partita comincia adesso sembra che sia finita la partita del giorno invece no invece la partita è cominciata quel giorno perché la morte di Paolo ha cambiato tante cose però Paolo sale dover morire eppure sapete cosa scrive in quella lettera è una lettera a dei ragazzi di un liceo di Padova Paolo sarebbe dovuto andare in quel liceo a incontrare i ragazzi Paolo faceva tanti incontri nelle scuole e sarebbe dovuto andare in un liceo di Padova a parlare dei ragazzi ma per quelle erano dei giorni terribili erano giorni in cui Paolo diceva devo fare in fretta devo fare in fretta devo fare in fretta lo ripeteva in continuazione quasi ossessivamente e allora non era andato in quel liceo e quei ragazzi erano rimasti delusi e gli mandano una lettera per fargli delle domande dieci domande gli fanno uno due tre quattro fino a dieci e Paolo che la mattina il primo pensiero è di rispondere a quella lettera riesce a rispondere a tre domande l'abbiamo trovata sul suo tavolo quella lettera uno due tre o le risposte poi c'è un quattro una parentesi e poi niente più Paolo si alza dal tavolo e lo alza l'appuntamento con la morte oppure Paolo in quella lettera scrive delle parole che sembrano scritte da un pazzo solo un pazzo può scrivere nel giorno in cui sa di dover morire può scrivere parole come quelle a quei ragazzi che gli chiedono come vedesse il futuro della lotta che stava conducendo Paolo sapete cosa risponde sono ottimista sono ottimista cos'è l'ottimismo di una persona che sa di dover morire cos'è scrive sono ottimista perché vedo che verso la criminalità mafiosa i giovani siciliani e no hanno oggi un'attenzione ben diversa da quella colpevole indifferenza che io mantenni fino ai 40 anni pensate si arriva ad accusare l'indifferenza soltanto perché lui fino al 1980 fino a 90 anni non si era occupato di criminalità mafiosa si era occupato ed è per questo che Paolo si riesce a tingere scuenza perché era appassionato di studi di diritto e un'altra parte della lettera spiega questa cosa ai ragazzi che gli chiedono perché è diventato magistrato e Paolo dice che dice la verità sono diventato magistrato perché ero appassionato di studi di diritto e avevo delle possibilità davanti a me o fare una carriera universitaria ma ci volevano dei santi in paradiso e noi i santi in paradiso non li avevamo oppure poteva fare l'avvocato dice ma bisognava inserire i compensi di dir niente la nostra famiglia non era abbiente non avevamo la possibilità di continuare a vivere alle spalle della famiglia prima di poter cominciare a guadagnare oppure dire potevo fare il concorso in magistratura dice in quella lettera fui fortunato altro che fortuna lo ricordo io come studiava Paolo dice fui fortunato diventato magistrato era il più giovane magistrato d'Italia quando dice il concorso in magistratura e per questo lui arriva ad accusarsi di indifferenza dice da quella colpevola indifferenza che io mantennosi nei 40 anni perché a 40 anni che il giudice Chinnici che fa la sua stessa fine morto ucciso da un'auto piena di tritolo messo davanti al portone di casa sua fu quando aveva 40 anni nel 1980 che Paolo che Chinnici gli affida il primo processo per mafia e Paolo dice capì che quella era la strada che dovevo fare e che la mafia era il problema del nostro paese e contro di questa dovevo condurre la mia lotta e questo gli invasa tutto per accusarsi di indifferenza però poi spiega dice a quei ragazzi perché può dirsi ottimista nel luttore della sua vita perché dice quando questi giovani saranno adulti avranno più forza di combattere di quanto io e la mia generazione ne abbiamo avuto questa era la speranza di Paolo la speranza nei giovani questo gli permetteva di affrontare la morte e di scrivere nell'ultimo giorno della sua vita sono ottimista non è pazzo Paolo non è pazzo Paolo anche se in quei giorni sta facendo delle cose che sembrano che possa fare un pazzo Paolo in quei giorni mi ha raccontato mia madre che Paolo gli dice che non fa più le carezze ai propri figli non gli fa più le coccole la fiammette era piccola non la prende più in braccio per fargli le coccole perché dice la nostra madre così quando mi uccideranno non se mi uccidono ma quando mi uccideranno i miei figli soffriranno di meno per il fatto che io non ci sia più se non è anche questo il ragionamento del pazzo come si può fare a negare ai propri figli le carezze a negarsi le carezze ai propri figli per farli pensando che così possono soffrire di meno quando tu non ci sarai più però voi pensate al padre che ogni mattina esce da casa e poi usciva quando i suoi figli ancora dormivano li vede dormire non li può neanche salutare perché dormono e non sa se quella sera qua notte tarda come sempre rientrava li potrà vedere di nuovo o se quello sarà proprio il giorno in cui lo uccideranno allora se Paolo è pazzo è pazzo pazzo d'amore ama così tanto i tuoi figli che poi non ha potuto neanche vedere crescere di cui non ha potuto tenere sulle gambe i propri nipoti gli ama così tanto da negarli le carezze e negarsi le carezze a quei figli è così che è riuscito a crescere ragazzi come quelli come Lucia che quando arriva in via l'Amelio vogliono fermarla ma si debatte per raggiungere il suo padre riesce a raggiungerlo mi pulisce la faccia con un fazzolettino la faccia che aveva nera di fumo e dice ci ha detto che pulendo gli baffi sotto i baffi nel fumo ho visto il sorriso di Paolo Paolo sorrideva io non so se sia vero tante volte gli occhi ci fanno vedere non quello che vediamo ci fanno vedere quello che vogliamo vedere eppure quella ragazza è così forte che raggiunge il suo padre li pulisce il viso con quel fazzolettino che ancora tiene sempre con sé e che l'indomani si va a presentare alla commissione di esame perché doveva dare degli esami riscritti in farmacia all'università e dopo che la sera prima ha voluto lei vestire il suo padre sapete cosa vuol dire vestire una persona a cui sono saltate le gambe sono saltate le braccia significa pigliare una gamba dal tavolo dell'ambitorio e infilarla dentro un paio di calzoni pigliare un braccio e infilarla nella manica di una giacca questo significa vestire una persona fatta a pezzi eppure l'indomani si presenta davanti alla commissione a sostenere l'esame e i professori non vogliono credere che quella ragazzina sia proprio la figlia di Paolo del magistrato del magistrato ucciso questi sono i figli di Paolo figli di Paolo che qualcuno ha avuto il coraggio di accusarli di essere stati in silenzio di recente finalmente quei magistrati che hanno avallato i depistaggi che per il corso di ben due processi hanno allontanato il corso della verità i magistrati sono stati incriminati come avevamo richiesto a gran voce per avere avallato per i depistaggi e uno di questi giudici il giudice Carmelo Petralia ha avuto il coraggio di dire perché Fiammetta anche lei aveva richiesto che fossero protestati questi magistrati o almeno indagati ha avuto il coraggio di dire ma dov'era Fiammetta quando suo padre è stato ucciso questa è la meschinità delle persone dov'era Fiammetta sapete dove era Fiammetta Fiammetta non c'era quando si era stato ucciso non c'era perché suo padre per allontanarla da quei giorni di tensione terribile che doveva passare la piccola Fiammetta l'aveva mandata con degli amici che erano andati in Thailandia credo infatti Fiammetta non riuscivamo a trovarla non riuscivamo ad avvertirla che suo papà era stato ucciso sono passati dei giorni in cui da Paolo abbiamo dovuto tenerlo in chiesa nella sacrestia non abbiamo potuto seppellirlo insieme ai ragazzi che erano morti insieme a lui insieme ad Agostino a Claudio ad Emanuela a Vincenzo e a Valt che i ragazzi che non sono soltanto i ragazzi della scorta sono ragazzi che i nomi dobbiamo scriverci nella testa perché loro sono i veri eroi loro che per poche loro che magari avevano scelto di fare i poliziotti perché a Palermo è difficile trovare altri lavori che pure fino all'ultimo sono stati vicini a Paolo e l'hanno protetto con il loro corpo perché non servono a niente le pistole i mitra servono soltanto a far sì che quando il calore di quell'esplosione gli fa scoppiare le munizioni delle pistole che hanno in mano e mentre a Paolo sono soltanto le gambe le braccia quei ragazzi sono stati fatti a pezzi letteralmente una mano è stata trovata il giorno dopo quel 19 luglio al quinto piano sul balcone del quinto piano dove era Fiammetta era dove sua padre l'aveva mandata per per allontanarla dall'attenzione che c'erano in quella casa in quei giorni era la più piccola e questa persona indegna ha il coraggio di chiedere a Fiammetta doveva di me ha detto ma cosa vuole questo salvatore questo salvatore borzellino perché non ha detto certe cose quando è stato interrogato al processo interrogato al processo io mi hanno chiamato soltanto una volta una volta a Caltanissetto per lo stesso procura che non aveva mai chiamato Paolo anche se l'aveva richiesto nell'ultimo suo discorso pubblico disse che aspettava di essere chiamato dalla procura di Caltanissetto per dire quello che sapeva e che aveva scoperto sulla morte di Giovanni Falcone lui era il migliore amico di Giovanni era quello che lavorava insieme a lui non era stato mai chiamato a Caltanissetto benché l'avesse richiesto lui stesso a testimoniare e l'hanno ucciso anche perché non andasse a testimoniare a Caltanissetto è un altro dei motivi per cui hanno dovuto fare quella strage in maniera affrettata perché è una strage preparata in fretta e fatta in fretta quella di Via D'Amelio e Carmelo Petralia mi chiede perché certe cose non gli ho detto quando mi hanno chiamato al processo cosa sapevo io mi hanno chiamato subito dopo la morte di mio fratello io ancora allora credevo che mio fratello fosse stato ucciso dalla mafia mi credevo che cosa sapesse ma io vivevo a 1500 km da Palermo io ero andato via nel 69 ero andato via da Palermo ero il 92 erano 20 anni che non vivevo più a Palermo che cosa potevo sapere tutto quello che so oggi l'ho capito ma ci ho messo degli anni a capirlo dopo i primi anni in cui chiedevo che mio fratello fosse stato ucciso dalla mafia poi ho cominciato a capire ho cominciato a capire in quei 10 anni quei lunghissimi 10 anni di silenzio in cui io non ho parlato più non ho parlato più perché ho ritenuto di non avere il diritto di parlare se non avevo più la speranza cosa potevo andare a raccontare ai ragazzi soltanto perché anagraficamente fratello di Paolo Borsellino cosa dovevo raccontare se non avevo più la speranza dentro cosa dovevo raccontare di quel mio fratello che la speranza aveva mantenuto fino all'ultimo giorno della sua vita per 10 anni sono stato in silenzio dal 97 al 2007 ma intanto cercavo di capire cercavo di capire che cosa veramente fosse successo e ho capito non era stato soltanto un assassino una strage di mafia era stato tutt'altro non si leggeva niente sui giornali le informazioni dovevo andartene a cercare perché neanche i giornalisti potevano scrivere certe cose non le lasciavano scrivere sui giornali Peppino Lobbianco e Sandra Rizza scrissero un libro si chiamava l'agenda rossa di Paolo Borsellino io la ricordavo questa agenda rossa Paolo non se ne separava un attimo la teneva sempre con sé e anche a casa non la lasciava sul tavolo perché le cose che c'erano scritte in quell'agenda erano cose terribili erano quelle cose che gli stavano rivelando quei collaboratori di giustizia con i quali stava parlando in quei giorni Gaspare Mutolo Gaspare Mutolo era uno dei killer di Riina era un trafficante di droga ed era quello che strangolava le persone i nemici di Riina per la maggior parte altri mafiosi delle famiglie delle vecchie famiglie mafiosi di Palermo li invitava Riina li invitava a pranzo e poi mentre si riposavano li faceva strangolare Gaspare Mutolo 48 persone ha strangolato con le sue mani però vedete cosa passa per la testa di queste persone si intende che Totorina avesse tradito i principi della mafia e allora cominciò a collaborare con la giustizia perché adesso si ucciderano le donne e i bambini come se uccidere gli uomini si può ma i bambini no questa mentalità contorta hanno queste persone che purtroppo sono state cresciute con questi principi e allora Gaspare Mutolo parla parla prima con Giovanni Falcone poi dopo che uccidono Giovanni Falcone parla con Paolo Borsellino e gli sta rivelando in quei giorni non come Massino Buscetta che ha permesso di conoscere tutto l'organigramma della mafia che ha parlato degli altri mafiosi dei delitti compiuti dai suoi ex compagni di mafia prima che gli sterminassero tutta la famiglia i figli i cognati ma Buscetta parla soltanto degli altri mafiosi dei delitti di mafia non parla neanche di quelle commesse da lui stesso ma parla dei delitti di mafia Gaspare Mutolo no Gaspare Mutolo sta parlando di qualcosa di cui nessuno ha mai parlato sta parlando delle infiltrazioni della mafia all'interno delle istituzioni sta parlando del giudice Signorino uno dei due PM del maxiprocesso l'altro era Iala e Signorino Gaspare Mutolo dice che sono stati scelti hanno premuto attraverso i contatti che avevano con gli organi della magistratura hanno premuto perché fossero loro a essere nominati come PM al maxiprocesso attenzione quando si parla di PM allora c'era il vecchio codice di procedura penale per cui diversamente da quello che succede adesso i PM che sostenevano l'accusa al processo non erano quelli che portavano avanti le indagini le indagini erano portate avanti per il maxiprocesso dal pull di Palermo il pull di Palermo con Antonino Caponnetto dopo che uccidono Chignici con Giovanni Falcone con Paolo Borsellino con Dilello questo era il pull dei PM che indagavano e che hanno messo in piedi tutta l'istruttura del maxiprocesso i PM poi al processo venivano quelli che sostenevano l'accusa e dice Gasperi Mutolo che avevano premuto attraverso le conoscenze che purtroppo c'era Corrado Carnevale alla Cassazione l'ammazza sentenze quello che annullava tutte le sentenze per stragi di mafia avevano premuto per fare nominare Ayala e Signorino perché erano ritenuti più avvicinabili perché erano avviti il vizio del gioco non soltanto quello e quindi chi ha quei vizi poi è più ricattabile Signorino si sparò un colpo di filo della quando gli furono contestate quelle accuse le accuse che gli aveva portato Mutolo e Mutolo stava parlando non soltanto di quello ma di Bruno Contrada Bruno Contrada era il capo della polizia era stato a Palermo il capo della mobile era il numero 3 dei servizi segreti a Palermo e anche lui racconta Gasparo Mutolo si era venduto alla mafia gli sta parlando dello Stato marcio dell'infiltrazione dello Stato all'interno delle istituzioni e poi altre cose viene a sapere Paolo da altri mentiti per esempio che il generale Subrani lo dice alla moglie in uno degli ultimi giorni della sua vita il generale Subrani il capo del Ross il capo di Mori dei doni quelli che trattano con quelli che hanno portato avanti la trattativa secondo la sentenza del processo di Palermo il generale Subrani dice Paolo Dagnese l'aveva sicuramente scritto su quell'agenda anche da chi gli aveva detto questa cosa il generale Subrani gli dice ho saputo che il generale Subrani è punciuto punciuto non vuol dire che favorisse la mafia in qualche maniera vuol dire che era affiliato alla mafia queste cose scrive Paolo in quell'agenda rossa e quindi questa agenda rossa deve sparire non serve a niente Paolo uccidere Paolo se non si fa sparire quella agenda e quando c'è quella strage c'è gente che aspetta là in pienamente c'è gente con la giacca la clavatta a Palermo a Luglio ad Agosto a Lugno c'è gente che aspetta che sa ci sia dell'esplosione che sa che ci sarà per avvicinarsi alla mafia di Paolo e non fa